Quelli cosa fanno con i figli? Fanno i tappeti! Fanno i tappeti! Cosa fanno con i figli? Le candele. Veramente? Sì. Non so che sono a dargli ora. No. Cosa fanno? Ci troviamo i figli? Oklu? Il lavoro di sospiro è questo. Ci piace il cuclino? Sì, quest'anno voglio fai un cuclino. Non ho fatti mai al giorno. La verità. La verità. Non ho fatti mai al giorno. Fai un po' di? Sono un po' di... Una volta mi hai detto se va a fare una cucchia e mi hai detto che non faccia mai. Perché i frumani sono, le rizzeranno quando la fissi. La mia mamma dice che mi ha detto che è una cosa. E' un po' l'odio. Ah, c'è stato le pibucarne. Ho trovato su internet. No, fuori è bagnato. Remo, è bagnato. Tente l'acqua, guarda. È bagnato fuori, Remo. Ma stai sotto la cappa. Scusami anche te, eh. Uh oh. Cos'è? Apri la porta per non andare fuori. Certo, ve lo puo capire. Lo scrive magari, il suo pensiero. Sì. Eh? Sì. Ascolta, dove sono tutte le caratteristiche degli animali? Vieni che le mettiamo dal loro posto. Oh, dosse. Vieni a sentire le cucine nel naso. Stanotte. Sì. 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 Sì.